Tag Oyer Carrera Calibre 6, l'orologio da polso di lusto che unisce design, qualità e precisione. Il Carrera Calibre 6 è un orologio, che fa parte della collezione Carrera, lanciata nel 1963 da Jack Oyer, nipote del fondatore della marca. Il nome Carrera deriva da una delle gare più emozionanti e pericolose del mondo, la Carrera Panamericana, che si svolgeva in Messico negli anni 50. Il design del Carrera Calibre 6 è caratterizzato da una cassa rotonda, disponibile in diverse finiture, tra cui acciaio inossidabile e oro giallo. Il quadrante del Carrera Calibre 6 è disponibile in vari colori, tra cui nero, blu, argento e bianco. Il quadrante presenta degli indici applicati a mano, che possono essere indici a bastoni o numeri arabi. Le lancette delle ore e dei minuti sono luminescenti e presentano una forma a bastoni o a spada. La particolarità che distingue questa versione del Carrera dalle altre è la visualizzazione dei secondi su un subquadrante a ore 6, con la finestrella della data nella parte inferiore di questo. Ma c'è anche una versione del Calibre 6, chiamata Gran Carrera Calibre 6, che invece permette di visualizzare i secondi su una finestra curva alla quale all'interno gira un disco che rappresenta i secondi, mentre sul vetro della finestrella si può notare una linea rossa che funge da indicatore. In questo caso, invece la finestrella della data è stata messa a ore 3. Il movimento che anima il Carrera Calibre 6 è il Calibro 6, un movimento automatico svizzero certificato dal COSC, Controllo Physiel Swiss de Cronometre, lente che garantisce la precisione e l'affidabilità degli orologi svizzeri. Se sei alla ricerca di un orologio che combini design, qualità e precisione, il Carrera Calibre 6 è quello che fa per te.